giornata storica non solo per la sicilia la calabria ma per tutta italia dopo 50 anni di chiacchiere questo consiglio dei ministri approva il ponte che unisce la sicilia al resto d'italia e all'europa per fare le cose insieme di sentirsi uniti e di avere anche la prospettiva di conquistare forti come sono tutta la sicilia prossimamente con il ponte sullo stretto di messina però immagino spero che regga ovviamente perché l'immagine è bella dal punto di vista estetico architettonico ma tutte a parte io credo sia un'infrastruttura necessaria e credo che il ponte sia un'opera che ha già portato ad uno sperpero i progetti del ponte c'è tutta quella macchina che sta intorno alla progettazione agli studi di fattibilità a tutto quello che si muove intorno a una grande opera inutile ed irrealizzabile in parte come quella il gap infrastrutturale del sud e della sicilia in parte va colmato con interventi che servono ai cittadini per spostarsi all'interno della sicilia innanzitutto per andare da messina a trapani lo voglio dire a salvini ci vogliono nove ore le strade sono collassate gli acquedotti non ci sono i depuratori non funzionano ecco questa è la situazione del sud si vogliono spendere 10 miliardi di euro per le folie di salvini la cosa bella è che siccome molti si riempiono la bocca di parola green il ponte sullo stretto sarà la grande opera più green al mondo si risparmieranno almeno 140 mila tonnellate di co2 nell'aria si ripulirà il canale di sicilia bloccato dal governo monti nel 2012 il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto entro il 31 luglio 2024 parliamo del ponte sullo stretto di messina una delle infrastrutture più discusse negli ultimi anni in italia buonasera bentrovati a tutti voi a questo nuovo approfondimento del tg plus buonasera savino balzano buonasera aurora buonasera a tutti voi benvenuto al nostro ospite l'onorevole della lega domenico furgele grazie per essere qui con noi onorevole lo sentiamo l'onorevole domenico furgele tra l'altro grazie a voi buonasera eccoci ora l'abbiamo sentita onorevole vice capo gruppo dicevo alla camera della lega e segretario in commissione trasporti allora onorevole partiamo da una delle dichiarazioni lasciate in questi giorni dal ministro delle infrastrutture dei trasporti leader del suo partito salvini che ha detto il ponte darà lavoro e il lavoro è il miglior antidoto contro le mafie ora però sappiamo che le mafie quando si tratta di grandi opere sono sempre lì pronte a metterci lo zampino ecco è prevista anche una contromisura insomma per evitare questo io innanzitutto credo che gli anticorpi per quanto concerne questo tipo di problematica di questo pericolo sono stati costruiti negli ultimi 20 anni almeno del nostra nostra nazione non si può privare un territorio come quello meridionale perché si ha la paura eventuale che qualcuno si faccia corrompere per quello c'è lo stato c'è la legge ci sono le leggi che sicuramente faranno da deterrente ma ciò non toglie che un'opera così importante vitale non solo per il mezzogiorno d'italia ma come è stato detto in precedenza dalle immagini per l'italia e per l'europa non può non essere effettuato semplicemente perché si ha paura che la stessa opera possa essere inficiata da agenti esterni gli agenti esterni sono stati combattuti in sicilia e in calabria e continueranno ad essere combattuti Savino che ne pensi tu invece di questa questione di questo tema ci sono le leggi dice l'onorevole per contrastare la mafia però anche alla luce del nuovo codice degli appalti giustamente non si può fermare una grande opera per il timore però bisogna tenerne conto sì sono d'accordo con te il fatto che diciamo nel nostro paese il problema della mafia sia stato in qualche modo arginato risolto credo sia purtroppo un utopia un sogno ad oggi è un problema lo dico anch'io da meridionale un problema purtroppo assai reale e presente e dunque delle contromisure da questo punto di vista sono assolutamente necessarie peraltro la notizia del ponte si affianca al tema del nuovo codice per gli appalti anche lì si parla di alleggerimento di semplificazione in realtà ecco si utilizzano delle espressioni anche che inducono in qualche modo a sentimenti positivi in realtà spesso queste norme in realtà vanno a costruire un appunto un allentamento dei controlli un allentamento della vigilanza su certe procedure soprattutto quando si fa ricorso ai cosiddetti affidamenti diretti e dunque credo che vigilare sia più che opportuno Onorevole Cateno De Luca ex sindaco di Messina ora leader di Sud Chiama Nord pur sostenendo la realizzazione di queste importanti infrastrutture ha mostrato alcune perplessità nel percorso messo presentato fino ad ora dal ministro Salvini e ha detto non siamo cretini si sta ammantando di meridionalismo per calare la supposta dell'autonomia differenziata abbiamo capito il giochetto cosa risponde a Cateno De Luca rispondo semplicemente che le regioni meridionali se hanno delle difficoltà e le hanno sono oggettive in diversi settori quello dei trasporti in quello della sanità in modo particolare certamente questo non è dovuto ad alcuna autonomia ma se vogliamo ad un sistema centralista che è evidentemente deresponsabilizzato e dietro al quale molti politici una molta classe dirigente degli ultimi anni si è potuta trincerare quindi io dico che il regionalismo differenziato sicuramente è un argomento che va approfondito che richiede sicuramente il confronto con i territori così come è previsto dal decreto dalla bozza ma sicuramente è un progetto che va a responsabilizzare fa sì che i territori possano diventare finalmente capaci di gestire il proprio destino e quindi i cittadini saranno più responsabilizzati nel scegliere le proprie classi dirigenti che non potranno più trincerarsi dietro il cosiddetto lo ha deciso Roma ce l'ha detto Roma adesso poi non entriamo troppo nel tema perché dobbiamo invece approfondire la questione del ponte nel blog a me interessava per esempio entrare sulla questione della semplificazione del del corso degli appalti perché sì no per rispondere a chi mi ha preceduto è giusto avere molta attenzione io sono un politico del territorio sono un imprenditore uno che fa politica per persone da tanti anni e posso garantire che uno dei mali che sicuramente ha attanagliato il mezzogiorno d'italia oggi è la burocrazia il ponte sullo stretto sarà la prima opera sulla quale questo governo potrà misurare la sua voglia e il suo obiettivo di burocratizzare la vera opera di questo governo non sarà il ponte sullo stretto ma sarà la sburocratizzazione la sburocratizzazione di un sistema di potere che con la sua farraginosità con le sue lentezze con i suoi crismi con le sue processioni evidentemente crea delle selve di norme delle pesantezze dove lì si poi si annida il malaffare dove lì si possono nascondere e gestire interessi deviati tornando alla questione del ponte salvino salvini ha detto che costerà meno di un anno di reddito di cittadinanza adesso poi approfondiremo anche la questione dei costi come rientrarci chi pagherà tu che ne pensi intanto di questa associazione tra le due cose allora io voglio fare una premessa io ho una certa simpatia per l'idea del ponte sullo stretto di messina ce l'ho perché sono affezionato all'idea degli investimenti pubblici ce l'ho perché sono affezionato all'idea della politica economica espansiva e alle grandi opere alle grandi infrastrutture quindi questo lo voglio dire e poi ce l'ho anche per una ragione personale essendo stato il ponte bloccato il progetto esecutivo dal governo monti quasi per reazione diciamo ideologica emotiva io sono diciamo fisiologicamente propenso alla realizzazione dell'opera questo però non significa che non ci siano delle criticità primo perché come si diceva anche durante il servizio la sicilia ma anche la calabria sono regioni che sono tormentate da un deficit infrastrutturale da retratezze che andrebbero colmate vorrei ricordare che tra i critici forti critici anche rispetto a questo progetto ci sono anche calabresi anche siciliani persone peraltro ritengo anche al di là si è ricompattato poi il fronte del no del no stanno rinascendo una serie di comitati che stanno manifestando in queste ore c'è anche c'è anche gratteri ad esempio che ha sottolineato alcune criticità che secondo me sono degne di nota e di considerazione quindi da un lato noi uniamo due regioni del paese in particolar modo un'isola al continente dall'altro lato però dobbiamo fare attenzione a non lasciare indietro le persone sia perché appunto abbiamo un deficit forte infrastrutturale ma anche perché a me francamente questa associazione tra il ponte il reddito di cittadinanza non è piaciuta perché il paese lo si unisce anche non lasciando indietro con cittadini e con cittadine in difficoltà quindi il reddito di cittadinanza è una misura di inclusione sociale insieme alla sanità che in quelle due regioni è in grave difficoltà insieme alle scuole insieme all'università che sono soltanto esempi di stato sociale quindi le infrastrutture senza lo stato sociale evidentemente non sono sufficienti a tenere unito il paese è vero da messina a palermo ci vogliono tre ore per arrivare in treno credo che questo non vada bene non sia funzionale non sia utile al rilancio economico di quella regione ecco onorevole questo è un punto che insomma tutti i detrattori del ponte richiamano la questione della mobilità territoriale si è parlato della 106 della 2 di alta velocità ma non è ancora chiaro quale saranno le risorse per questi interventi e le tempistiche allora partiamo da una consapevolezza non è scritto da nessuna parte che un'opera possa escludere l'altra e che entrambe possano far assurgere i territori di competenza al ruolo che gli compete non è che qui si congiunge la calabria e la sicilia qui si congiunge berlino a palermo secondo le reti tenti e in particolare quella scandinava mediterranea che deve essere completata e senza il ponte sullo stretto non può essere completata perché il ponte sullo stretto non è asfalto è rete terrata ora io sono segretario della commissione trasporti in queste settimane in questi giorni stiamo audendo e abbiamo udito anche la rfi sul contratto generale e su questo si evince che c'è una potenza di fuoco in termini di investimenti per le infrastrutture soprattutto nel mezzogiorno d'italia ma non ha senso ridurre il trasporto da roma a villa san giovanni o a reggio calabria di un'ora un'ora e mezza con 15 miliardi di investimento è la stessa cosa da palermo a messina se poi arriviamo al collo di bottiglia e alla strozzatura che c'è tra lo stretto di messina e villa san giovanni io sono calabrese ho studiato a messina ho fatto il magistero posso garantirvi che quando si arriva lì ci sono gravi difficoltà il sullo stretto sarà un'opera capace di sommare la riduzione delle tempistiche quindi i vantaggi che ne derivano a quelle che sono le riduzioni delle tempistiche che sono già previste da rfi ma è inutile arrivare a villa san giovanni e poi con il treno traghettare in due ore oppure arrivare con la macchina e traghettare in 50 minuti questa non è alta velocità questo non è il congiungimento delle 400 mila aziende siciliane con il resto d'europa quest'opera sarà un'opera capace di far compenetrare economicamente e far rendere produttive e soprattutto competitive delle imprese che pagano altissimi pedaggi e che poi utilizzano dei mezzi obsoleti come quelli delle navi che inquinano molto ma molto di più rispetto alla rete ferrata. Le ringrazio per essere stato qui con noi avrei avuto tante altre domande da farle ma in noi il tempo è tirano magari ci saranno altre occasioni grazie a Domenico Furgiuele della Lega vice capogruppo alla Camera per essere stato qui con noi a presto. Grazie a tutti voi buonasera. Noi adesso cambiamo argomento perché a partire dal 24 gennaio del 2023 in tutta l'Unione Europea è possibile vendere e anche comprare prodotti alimentari a base di polvere o farina di acheta domestico quello che comunemente chiamiamo grillo domestico. Il servizio è di Lorenzo Capezzoli Ranchi. Con l'arrivo dell'alt al cibo sintetico a tutto tondo accompagnato dall'altrettanto roboante annuncio del governo a tutela e salvaguardia di una filiera alimentare nostrana che vale 580 miliardi di euro il sogno di mangiare una bistecca che non causi la morte di un animale si allontana. La sfida dell'esecutivo di Giorgia Meloni nel nome della tutela del Made in Italy ha attirato anche diverse critiche in particolare dagli animalisti che insorgono e contestano la decisione di Palazzo Chigi e dei suoi ministri di proseguire verso il proliferare degli allevamenti intensivi e dell'inquinamento atmosferico da essi dovuto. Si stima infatti che a livello mondiale questo tipo di attività causi il 14,5% del gas serra totale. Tuttavia l'Italia da oggi vieta la produzione, sì, ma non l'import di questo tipo di alimenti e mangimi sintetici che, sempre secondo l'esecutivo, mettono in discussione il rapporto fra uomo e natura. La nostra bistecca integralmente naturale quindi come contorno prevede, per chi produce o vende alternative prodotte fantascientificamente in laboratorio, sanzioni fino a 60 mila euro oppure pari al 10% del fatturato annuo. Poi c'è la nuova normativa europea a cui l'Italia, volente o nolente, si è dovuta adeguare sul tema delle farine prodotte da quattro insetti diversi, oggetto di altrettanti decreti presentati nei giorni scorsi dal ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, insieme al ministro del Made in Italia Adolfo Urso e a quello della salute, Orazio Schillaci. L'unica azione del governo sul tema è stata assicurare una severissima vigilanza ed etichette ben precise, insieme alla garanzia che alimenti tipici del nostro paese, come pasta, pizza e pane, non vedranno quelli che lo stesso Lollobrigida ha definito cibi non tradizionalmente presenti nell'alimentazione, come le farine di grillo, la locusta migratoria, il verme della farina e la larva gialla, oppure, sempre in riferimento alla carne sintetica, la bistecca alla Frankenstein. Insomma, rigatoni e spaghetti saranno sempre e solo di grano duro, così come la carne sarà sempre ed esclusivamente di origine animale. E nonostante la consolazione della candidatura a patrimonio dell'UNESCO, per la cucina italiana è davvero un momento amaro. E lo vedete alle mie spalle, Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore per la nostra rubrica Momento Amaro. Buonasera Massimiliano. Buonasera a voi. Allora, dico a entrambi voi, partiamo da una battuta. Dopo, insomma, questo via libera alla farina di grilli, certo è che quando andremo al ristorante e magari troveremo un moscerino nel nostro piatto, non lo manderemo più indietro, no? La tua battuta è divertente, ma c'è uno scenario ancora più inquietante, secondo me. Proviamo a simulare un menù del futuro. Pane di farina di grilli, spaghetti di farina di grilli, bistecca sintetica, vino no perché sostiene una nota immunologa, rimpicciolisca il cervello, acqua poca perché c'è la crisi idrica. Sembra quei film tragici e catastrofisti sul nostro futuro che andavano di moda negli anni Ottanta. Allora, cerchiamo di ragionare a bocce ferme e togliamo l'ideologia dalla tavola e il senso di colpa. Ecco. È vero, l'ambiente ha bisogno di una mano, noi inquiniamo. Ma da lì a sostenere quello che ha sostenuto Bill Gates, che ha detto tempo fa che il mondo ricco dovrebbe consumare carne sintetica al 100%, ce ne corre. Io voglio mangiare la bistecca, la fiorentina, buona, non sintetica, con l'osso. Ci vogliete togliere questo che non è solo un piacere, ma è un'identità, è la nostra storia, è la nostra cultura, è Feuerbach che sosteneva che l'uomo è ciò che mangia, ma non nel senso banale e materiale, nel senso di identità morale, di costruzione del senso della vita, del comportamento, delle relazioni con il mondo. Quindi c'è qualcosa che va oltre il salvare il pianeta. A me sembra che qui si stia rovesciando tutto e è legato questo, attenzione, anche al politicamente corretto. Bravo, bravo, bravo. Noi diciamo che il David di Michelangelo è pornografico. Beh, non lo diciamo, noi lo diciamo, i genitori americani, se non sbaglio. E poi ci mangiamo la bistecca sintetica, mi arrendo, ditemi dove devo andare, trovatemi un rifugio piccolo dove ancora potrò guardarmi il David di Michelangelo e mangiarmi la carne. Ma il rischio è proprio quello di finire con il sintetizzare ogni cosa. Alla fine credo che ci sintetizzeremo anche noi, in definitiva. Ecco, mo' di no. La mia sensazione, infatti guarda, mi hai rubato le parole di bocca quando hai fatto il riferimento al politicamente corretto, perché è incredibile che ogni qualvolta qualcuno prova ad alzare il ditino e a dire, ragazzi, ma questa transizione, perché io lo dicevo ieri sera proprio qui e lo ripeto. Questa è l'era della transizione, tocca transitare. Cioè l'idea della staticità ormai è superata dal politicamente corretto che impone la transizione. Però a transitare io mi domando, saranno tutti? Cioè io mi... il grande Magnate, il grande Magnate, tra l'altro è un'espressione che in questo caso calza veramente a pennello, mangerà anche lui la bistecca sintetica? Mangerà anche lui la farina di grillo? Oppure la farina di grillo sarà il nuovo pasto proletario e sottoproletario delle periferie? Non credo proprio, Savino, perché ad oggi la farina di grillo costa 60 euro al chilo. Quindi, insomma, proprio pasto proletario non sarà... In questo momento sicuramente. Io faccio un discorso prospettico. Partiamo dal presupposto che se c'era una cosa che a me veramente piaceva e continua a piacere in questo governo è l'idea della sovranità alimentare. Mi piace sia come suona, suona veramente bene questa sovranità alimentare. E poi questa cosa di animare e coltivare la nostra identità. Ma i grilli li mangino coloro i quali hanno nella loro cultura l'idea di mangiare. Perché dobbiamo mangiare i grilli? Perché dicono che sia l'alimento del futuro, sicuramente a meno impatto ambientale, assolutamente proteico. Però mi riallaccio a quello che dicevi tu invece sulla carne sintetica e sul Ministero della Sovranità Alimentare. Ora, il Ministro Lollobrigida, chiedo a Massimiliano, ha detto presentando appunto questo disegno di legge che si va a tutelare i consumatori. Però, perdonatemi, la importiamo comunque? Cioè non la produrremo? Non si può commercializzare, però si può importare. Quindi... Qui bisogna fare i conti, come sempre, nella nostra vita e me con la realtà. Il Governo ha fatto benissimo a tenere il punto su quella che ritiene una battaglia giusta e che io devo dire condivido. Ovviamente nel 2023 non la può fare l'Italia da sola. Questa è una battaglia che dovrebbe fare, se non l'Europa, perlomeno i paesi dove il cibo è un valore, una tradizione. Penso alla Francia, che come noi è una storia. Penso agli amici spagnoli. Cioè qui c'è una battaglia identitaria che riguarda tutti noi. Pensiamo soltanto al cibo nell'arte. Noi ci raccontiamo con l'arte attraverso i secoli, i millenni. E c'è sempre la raffigurazione del cibo. Pensa al cristianesimo. Prese il pane e lo spezzò, al calice di vino, alle nozze di cana. Allora questi siamo noi. Possiamo andare in tutti i futuri possibili. Transitare. Ha usato un verbo che mi piace molto, ma che mi fa venire in mente. Perché quando si transita bisogna sapere per dove. Se no è come l'armata Brancaleone, ve lo ricordate il Pilbio Micelli? Doite. Imo senza meta. Anco noi senza meta, ma da un'altra parte. Allora è una battuta straordinaria. Il transitare richiede una direzione. Se il transitare è quel menù che io ti ho descritto un po' surreale all'inizio, cioè io non ci voglio transitare verso quel futuro lì. Io non voglio transitare proprio. Io non voglio transitare proprio. Ma te sei figuro allora. Sei figuro allora. E poi c'è anche un'altra parola che non sopporto più, che è resilienza. Ma perché io devo essere... Ah vabbè, sono gli anni della resilienza. Ma perché io devo essere resiliente? È nato come tatuaggio che si facevano un po' tutti. Adesso viene applicato anche ai disegni di leggi, agli interventi politici. Però dico una cosa a entrambi. Faccio un attimo l'avvocato del diavolo. L'avvocato del grillo. L'emergenza ambientale è una cosa che effettivamente c'è. Nelle generazioni che ci hanno preceduto, non parlo tanto dei nostri genitori, ma più dei nostri nonni e bisnonni, un'attenzione a quello che lasciavano le generazioni future ce l'avevano. Un po' sembra che questa attenzione, questa premura per il mondo che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti si stia perdendo. Che ne pensi Massimiliano? Non è che stiamo perdendo l'attenzione. Semplicemente sta succedendo quello che devo dire. Un politologo fiorentino, Giovanni Sartori, scriveva vent'anni fa sul Corriere. Che la crescita demografica del mondo, perché l'Italia è in crisi demografica, ma altri continenti non lo sono. Noi siamo 8 miliardi di persone, quindi 8 miliardi di persone consumano il pianeta più di 5 miliardi di persone. Il punto è, difendere il pianeta può diventare un'ideologia che fustiga il vivere libero e civile che noi ci siamo conquistati? L'auto a benzina, la casa con la caldaia, il cibo in tavola? E lì c'è il problema del transitare. Si può cercare di cambiare e di inquinare di meno, ma non stando dentro le maglie di un'ideologia che ti dice fallo in fretta, se no te uccidi il mondo. E qui torno al senso di colpa. Ti fanno sentire in colpa per un mondo dove noi giriamo e ci abitiamo da quanto? 40, 50 anni. Tu sei più giovane di me, quindi ancora meno. Lui è più giovane di me, ancora meno. Possiamo essere noi colpevoli del disastro? È evidente che no. Possiamo fare una cosa graduale, razionale, intelligente, come sempre ha funzionato il mondo delle migliori riforme? No. Qui ormai c'è l'ideologia. A macchina non la prendi. Perché a benzina? La scadenza per il cambio delle caldaie in casa va fatta perché se no te, attenzione, l'aria del pianeta, l'aria, eccetera. Il cibo uguale perché gli allevamenti inquinano. A me mi sembra che qui siamo nell'ideologismo, che è molto pericoloso. L'ideologismo è pericoloso. Siamo in chiusura. Sono d'accordo. Chiunque non si adegui al conformismo imperante che appena respiri prova a farti sentire un mostro viene tacciato di essere reazionario, violento, barbaro, conservatore, luddista e chi più ne ha più ne metta. Io penso che con serenità dobbiamo affrontare con senso di responsabilità i grandi problemi del nostro tempo ricordando però che la vita è una, è fatta anche di piaceri e di godimento e io francamente i grilli li lascio ad altri. Che mangiate stasera? Una bistecca alla fiorentina, non sintetica. Però dite dopo. Grazie a Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore per la nostra rubrica Momento Amaro. Alla prossima settimana. Buonasera a tutti. Ciao anche a te Savino. Noi ci vediamo domani. Grazie a voi per averci seguito. Grazie ad Alessio Tancorra in regia. Restate con noi e buonasera. Grazie a tutti.